Lazio sola al comando con Chinaglia risolutore. Partita tutta a ritmo e agonismo che almeno sino alla metà della ripresa sembrava destinata ad un ragionevole e onesto pareggio. A 20 minuti dalla fine però il Foggia ha cominciato ad accusare la stanchezza e ad avvertire qualche segno di nervosismo. E' stato allora che la Lazio si è ritrovata qualche spicciolo di energia in più. Una punizione al 39esimo minuto, sempre della ripresa, ha fatto il resto. Tocco di Frustalupi e Fulmineo Rasoterra di Chinaglia che indovina l'angolino a destra di Trentini. Niente da fare per il portiere Foggiano che si è mosso forse con qualche istante di ritardo. Per i Foggiani in verità il primo colpo era venuto all'undicesimo minuto di gioco per via di un presunto rigore negato dall'arbitro Torelli dopo un fallo di Polente e Sai Danni di Villa. Per tutto il primo tempo il gioco è rimbalzato da un'area all'altra risolvendosi quasi sempre a tre quarti di campo. Come se le due squadre adottassero lo stesso modulo di gioco. Più insidiosa e efficace comunque l'azione degli attaccanti Foggiani con Pavone, Rognoni e Valente un po' sciuponi in prima linea. Nella ripresa Maestrelli ha fatto marcare più insistentemente Rognoni a cura di Inselvini, ottimo sostituto dell'assente Receconi e l'attacco Foggiano ha perso colpi. E' cresciuta la Lazio. Prima visaglia del gol in arrivo, una botta di testa di Chinaglia bloccata a portiere battuto sulla linea di porta dall'onipresente Pirazzini. I disperati sforzi del Foggia dopo la rete non potevano più dare frutti.